Lo stadio Vidiani ospita per la prima volta l'evento della Lega Pro dedicato agli Under 15, 16 e 17. Sarà il terzo stage nazionale all'inizio stagione, vi prenderanno parte i giovani calciatori tesserati con le società ricadenti nelle regioni meridionali, convocati dal commissario tecnico delle rappresentative Daniele Arrigoni. Ha iniziato la categoria Under 17 con una gara amichevole a ranchi contrapposti che è stata preceduta da una partita dimostrativa di calcio femminile con le atlete dell'ASD 17 Potenza, anche per celebrare il Mese dei Diritti delle Donne nello Sport. Un'iniziativa lodevole condivisa con la presidenza della Lega Pro, il presidente Ghirelli, il quale ci ha fatto visita con la partita del Foggia e dopo di quella partita mi ha chiesto se volevamo o meno ospitare la selezione Lega Pro. No, noi abbiamo detto assolutamente sì, sono qui, ci dicono almeno le prime impressioni che sono straordinariamente colpiti dal lavoro che abbiamo fatto. Un momento di crescita perché chiaramente il proliferare delle squadre a femminile porta molte più ragazze a praticare anche questo sport. Il momento dell'agonismo di una sana competizione non può essere un momento di maggiore affermazione di se stessa anche per le ragazze.